Poste italiane e coronavirus nello sforzo di garantire, limitando i disagi, ogni servizio e ridurre al minimo gli spostamenti, le file, i contatti, con un occhio di riguardo ovviamente per le persone anziane. Le pensioni di aprile saranno accreditate dal 26 marzo, con ritiro possibile da oltre 7.000 postamat in tutta Italia, dunque evitando di recarsi allo sportello. Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l'obiettivo di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di poste italiane. In tutte le sedi si entra a turno tra le mille precauzioni del caso. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi negli uffici postali per il ritiro in contanti sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico nell'invito di presentarsi agli uffici esclusivamente per le operazioni essenziali. Dunque la turnazione alfabetica prevista dal calendario è questa, i cognomi dalla A alla B il 26 marzo, dunque il giovedì, dalla C alla D il giorno successivo, venerdì 27, dalla E alla K mattina di sabato 28 marzo, LO lunedì 30, PR martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Il direttore dell'ufficio postale di via Rosato a Lanciano, Sergio Di Ninni. C'è una raccomandazione per quanto riguarda la salute, quindi di rispettare le indicazioni del governo, quindi di stare a casa il più possibile, di venire all'ufficio postale solo per operazioni urgenti e non rimandabili, di tenere la distanza interpersonale di almeno un metro, di uscire almeno con la mascherina e con i guanti e di entrare in ufficio postale solo dopo che il cliente precedente sia uscito da esso. Poste sta compiendo uno sforzo straordinario in tutta Italia per poter garantire il pagamento delle pensioni, tenendo la salvaguardia della salute sia dei clienti che il nostro. Ci hanno forniti sia di mascherine, di gel e di guanti e in tempi record abbiamo montato anche dei plexiglass rimovibili, stamattina sono arrivati proprio per quegli uffici dove la separazione fisica dei vecchi uffici postali con il vetro tra dipendente e cliente non ci stavano. In più sono assicurati l'apertura di tutti gli uffici almeno per uno per comune, anche in quelli più piccoli. Poi per maggiori informazioni riguardante il pagamento della pensione oppure dei servizi disponibili. Il cliente può tranquillamente consultare sia il sito www.poste.it o telefonando al numero verde 800 00 33 22.